Andrea Gibelli, Presidente della Commissione Attività Produttive, oggi qui a Milano a questo convegno si parla di energie rinnovabili. Cosa sta facendo il Governo per incentivare il fotovoltaico e le biomasse? Sicuramente continua in quella politica che vede nelle energie da fonti rinnovabili una grossa opportunità per il Paese. Sono energie pulite che gli investimenti in termini tecnologici devono aumentare per permetterle di renderle sempre più competitive. Quindi è una scelta che noi continueremo a sostenere accogliendo e raccogliendo tutte quelle opportunità che un mercato che si sta oggi espandendo consentano di utilizzare queste nuove fonti di provvigionamento energico. Quindi ci sono degli incentivi? Sì, beh, c'è il vecchio conto energia che ha qualche anno e che continua ad essere un'opportunità da sfruttare in pieno. Questo tipo di energie sono utilizzabili sia dalle famiglie che dalle aziende, naturalmente? Naturalmente sì, proprio perché maggior diffusione rende più competitivo anche la possibilità per le aziende di continuare ad investire in tecnologie e quindi in innovazione.